Tornerà la voglia di correre, se stiti così potremmo essere protagonisti di qualsiasi film. Tornerò io, tornerai, cambieranno le mode, le canzoni d'estate, ma io sarò la stessa. Tornerà questa voglia di correre, se mi guardi così potremmo essere la prima fila dell'ultimo film. Amici di AccenaCon, siamo tornati al Pepito Beach di Pescara, questa sera in compagnia di Davide Vitturini. Ciao Davide, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Come i tuoi compagni di squadra ti vedo molto interessato a quello che ci portano a tavola. Beh, sicuramente. Però devi aspettare un po' perché scottano ancora, quindi tra un po' assaggerai tutto. Il buon Alberto Capo alla telecamera, che saluto e che ringrazio, vorrebbe assaggiare anche lui, ma non può. E quindi questa è tutta roba nostra dopo la nostra trasmissione. Ci dobbiamo dare da fare. Come sta Davide Vitturini? Molto bene, molto bene, grazie. Anzi, pardon, il dottor Davide Vitturini. Benissimo, sì, sì. Soprattutto per questo, perché il 20 novembre ho conseguito la laurea in economia aziendale. È stato un bellissimo giorno, una bella soddisfazione, che ho condiviso con tutti i miei parenti e familiari che sono venuti a Napoli. e sono riuscito a raggiungere questo traguardo, comunque, nonostante gli impegni. Dottor Davide o semplicemente Davide? Davide. Davide, va bene. Tra l'altro, l'università ti ha portato a vivere un sogno quest'estate, no? Con la maglia della nazionale. Che cosa è successo? Sì, assolutamente. Sicuramente le università sono state una bellissima esperienza. E l'ho partito un po' diffidente, però poi con il passare del tempo, conoscendo i compagni, è stata veramente una bella esperienza, che poteva finire con una medaglia d'oro che purtroppo non è arrivata perché in semifinale abbiamo perso i rigori con il Giappone. Proprio io ho sbagliato il rigore, l'ultimo decisivo, quindi un po' di rammarico ce l'ho. C'è, però sono stato molto felice dell'esperienza che ho fatto e mi piacerebbe anche ripeterla un giorno. Non sei nuovo alla maglia azzurra, no? Davide, nella tua carriera con le nazionali giovanili ti sei tolto qualche soddisfazione. Sì, sì, assolutamente. Su tutte l'Europeo Under 19, che è stata un'esperienza veramente fantastica, dove siamo arrivati con Mr. Vanoli in fondo a questo cammino bellissimo dell'Europeo, che mi ha portato a sfidare tanti ragazzi che oggi sono campioni e a conoscere tanti ragazzi che oggi stanno facendo veramente benissimo nel nostro campionato. Chi è un giocatore con cui avevi legato particolarmente? Ma Romagna, lo stesso Barella, li conosco molto bene, quindi spesso alcuni di loro li sento ancora, lo stesso Ghiglione, mi fa molto piacere averli conosciuto perché sono veramente dei bravi ragazzi con cui ho condiviso cose di importante davvero, di cui sono orgoglioso. Abruzzo e Sedoc, Davide Vitturini, anzi, perdono, dottor Davide Vitturini. I primi calci dove li ha tirati il pallone Davide Vitturini? No, i primi calci li ho tirati qui a Lenaia, vicino alla piscina, perché quando ero piccolo Quanti anni sono passati? Sono passati 15 anni. Passa il tempo? Sì, passa. Perché all'inizio mia mamma voleva che facessi piscina, quindi facevo entrambe le cose e in un campetto a Lenaia gli giocavamo con un mister, il mister Fabio Gianzante, che tuttora l'ena i piccoli del Pescara e che è stato per me un mister molto importante perché mi ha fatto proprio crescere. Dopodiché sono passato al Villaraspa e dal Villaraspa sono arrivato l'anno dei giovanissimi regionali al Pescara. Che era il tuo allenatore al Pescara, te lo ricordi il primo? Bottarini. E poi è cominciato così il cammino di Davide Vitturini con la maglia bianca-azzurra e chiaramente andiamo a ricordare la stagione con Baroni in panchina lì? L'anno di Melchiorri Maniero se non ricordo male. Sì, sì, sì. Che stagione è stata quella? Politano, tanti campioni. No, è stata una stagione importante per me perché mi ha permesso di entrare nel mondo del calcio e di conoscere questo che oggi non è solo un piacere farlo ma è anche un lavoro vero e proprio. Ma mi ha permesso appunto di fare questo esordio a Sassuolo contro il Sassuolo di Zazza Berardi e via dicendo in quell'anno che loro fecero molto bene e quindi è stata un'emozione veramente importante. La partita con il Sassuolo l'hai ricordata? Ma c'è un altro episodio di quell'anno, un altro momento che Davide Vitturini non dimenticherà mai? Di quella stagione? Alla fine il play-off, la finale con il Bologna. Persa di Melchiorri. Sì, il gol di testa sbagliato da Lazzari. Sì, sì, quello dalla tribuna me lo ricordo ma perché non scesi in campo quella partita ma quelle sono state veramente belle esperienze. E poi l'anno dopo sei andato in prestito per cominciare sempre in Abruzzo, Serie C, a Teramo. Sì, 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 con la società avevamo deciso di andare a Teramo per fare un po' di esperienza però purtroppo non è stato così. A gennaio ho deciso di tornare per giocare come fuori quota nella primavera però come tornai il mister Oddo era già in prima squadra e quindi con un po' di assenza e un po' di fortuna mi mise in campo. Crescenzi mi ricordo era infortunato. Crescenzi infortunato e mi mise in campo sulla destra insieme a Zampano sulla cortina sinistra e riuscimmo a fare qualcosa di veramente bello. Tra l'altro lì poi mi ricordo ci fu un po' di polemica a Teramo perché Vitturini a pescare in Serie B vince il campionato e va in Serie A perché quello era stato l'anno della finale di Trapani e a Teramo invece in Serie C non giocava, ti ricordi? Sì, sì. Purtroppo proprio feci zero presenza quell'anno a Teramo. Venivo da... ho incontrato il mister Vivarini che veniva dall'anno prima che aveva vinto il campionato ma con tutto quello... C'è stato il problema di Savona a Teramo, sì. Esattamente. Era molto legato ai suoi uomini che appunto c'erano anche quell'anno e quindi preferiva giustamente a volte far giocare loro piuttosto che me. Quindi decisi di fare questa scelta e di tornare sui miei passi e di rientrare a pescare. Ti ricordi la prima partita che hai giocato con Oddo quell'anno? La prima partita con il Como, mi ricordo. Fu una partita importantissima perché venivamo da diversi risultati non proprio utili. Infatti riuscimmo a vincere e da lì facemmo un filotto di partite senza perdere. Solo in mezzo, quella di Novara se non sbaglio, che ci portarono poi a arrivare ai play-off da quarti. Poi ci fu proprio la partita ai play-off con il Novara se non ricordo male. Esattamente. Semifinale. Sì, semifinale con il Novara di Baroni. Sì. Poi era partitissima con il Trapani. Partecipai alle semifinali, ma non alle due finali. Però ti ricorderai sicuramente il gol di Verne a Trapani. Sì, assolutamente. La perla incredibile, bellissimo. Ci andò tutto bene quell'anno, si incastrarono tutte le cose e in più avevamo giocatori veramente di altra categoria. E poi la Serie A. E poi la Serie A. Vai, raccontaci. La Serie A ovviamente è stata emozionante perché ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere dei giocatori veri, Alberto Aguilani, Simone Pepe. È stata veramente un'altra linea di emozioni quell'anno perché dopo arrivati a novembre il mister un po' per l'assenza, un po' perché comunque andavo bene, decise di farmi giocare, di farmi entrare allo Juventus Stadium proprio. Difensore centrale della difesa a tre. Sì, esattamente. Prima mi fece fare l'esordio da titolare con la Sampdoria e poi qualche settimana dopo difensore di destra allo Juventus Stadium entrando nei secondi 45 minuti. Si fece male Ugo Campagnano. E di fronte avevi due giocatori che mi sembra si chiamassero Manzuki, Cheguaino. Esatto. In quella partita non ho realizzato proprio perché è stata veramente una scarica di adrenalina incredibile perché in campo le gambe andavano da sole e trovarsi quei giocatori davanti… Hai un episodio che ci vuoi raccontare di quella partita? Sì, mi ricordo che Iguaino non aveva molta voglia quella partita ma quando decise di svegliarsi si stoppò la palla da 30 metri e tirò all'incrocio dei pali così, dal nulla. Dal nulla. E io dissi, vabbè, questa è la Serie A. Questa è la Serie A, un altro livello. Poi però la carriera di Davide Vitturini non è decollata come anche tu forse ti aspettavi. Che cosa è successo? No, purtroppo accadono degli incidenti di percorso, quell'anno sono stato male per lungo tempo, da gennaio in poi, quindi ho dovuto saltare anche il Mondial Under 20. Sono dispiaciuto molto. Molto, sì, è stato veramente forse il rammarico più grande di quell'anno e quindi ho vissuto sei mesi non proprio felici diciamo, ma mi sono rimesso al lavoro, ho sempre lavorato per rientrare e per cercare di ritornare a quei livelli dove mi ero fermato, da cui mi ero fermato. E poi da dove hai ricominciato Davide Vitturini? No, ho deciso di andare a Carpi insieme al mio procuratore. Carpi di Castori? No, di Calabro. Ah, Carpi di Calabro, sì. Insieme al procuratore e alla società, che con l'accordo della società ci ha permesso appunto di andare, ma non è stato fortunato neanche quell'anno, pochissime presenze, andando in prestito pochissime presenze e per questo ho dovuto fare la scelta obbligata a gennaio di fare un passo indietro e andare in Serie C per iniziare veramente a giocare, come si dice, a farsi le ossa, a Carrara appunto, un posto in cui mi sono trovato veramente bene, devo dire la verità. Ho conosciuto anche lì giocatori importanti, Ciccio Tavano, Marchionni, il mister. E quindi sono stato contento anche di quell'esperienza. Poi Fano. Sì, poi Fano. Fano per continuare appunto, per dare continuità alle partite che avevo fatto a Carrara con mister Baldini. È stato da quel punto di vista un anno che ha rispecchiato le aspettative, nel senso le partite le ho giocate, anche con discrete prestazioni. Purtroppo però è arrivata questa retrocessione che è in un campionato molto equilibrato e la nostra squadra era formata da diversi giovani, però abbiamo lottato fino alla fine con scarsi risultati, purtroppo comunque sono rimasto abbastanza soddisfatto delle mie prestazioni. E poi sei tornato a Pescara, siamo all'estate scorsa, dove tra l'altro Zauri ti vedeva molto bene, perché mi ricordo una conferenza dove lui sottolineò come avevate fatto bene nel secondo tempo di Empoli e se non ricordo male c'eri tu in campo. Sì, sì, in tutto questo infatti il mio unico pensiero era quello di tornare a Pescara, perché avendo girato mi sono reso conto veramente di altre situazioni, veramente di come si possa star bene qua, anche perché è la mia casa e quindi non c'è posto migliore in cui stare, però vabbè, è partito benissimo, infatti poi complici anche degli infortuni dei periodi in cui sono dovuto star fermo, hanno condizionato un po' anche questo inizio di stagione. Tra l'altro sei rimasto fuori dalle scelte di Salerno per un problema fisico, perché sennò dovevi giocare tu quello che ti ha condizionato un po'. Poi fuori per scelta tecnica, sei un po' dispiaciuto? Sì, vabbè, dispiace, però siamo tanti difensori e per me a mio avviso molto bravi, quindi il mister fa le sue scelte, spero di avere l'opportunità al più presto e di poterla sfruttare al massimo. Se ti dovessi dire Davide Vitturini, anzi il dottor Davide Vitturini, se è un sogno che cosa mi rispondi? Parliamo di calcio. Ma il sogno è quello di magari giocare qui, di vincere il campionato qui da protagonista e continuare a fare quello che sto facendo senza mollare mai. Di chi è stato il primo messaggio dei tuoi compagni quando ti sei laureato? Ma dei compagni, se non ricordo male, forse Luca Palmiero proprio, forse aveva visto che ero a Napoli, quindi è stato uno dei primi. E invece un compagno con cui hai particolarmente legato, di questo gruppo? Di questo gruppo, vabbè, conosco benissimo Celli, con cui ho giocato l'anno scorso, Castanos l'avevo già conosciuto e quindi ho avuto modo di riprendere quella conoscenza, anche con stesso Masciangelo sto avendo buoni rapporti. Davide, noi ci facciamo un brindisi, ti faccio un grande in bocca al lupo, ti ringrazio per questa chiacchierata, ti vedo molto concentrato su questi piatti qui al Pepito Beach di Pescara, saluto e ringrazio Alberto Capo in rigoroso gile grigio anche qui al ristorante Pepito Beach di Pescara, noi ci vediamo martedì prossimo, stesso orario, con un'altra puntata di A Cena Con e noi intanto ci gustiamo questi splendidi piatti, ringrazio ancora Davide Vittorini. Ciao! 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 Ciao!